Enrico Geroni, al di là del risultato, una prestazione positiva, la notizia sono i tre gol fatti? Sì, diciamo che appunto più del risultato importa fare una buona prestazione e ritrovare un po' quel senso di squadra, di gruppo che nelle ultime due partite in campionato era mancato. Penso che a tratti ci siamo riusciti e la notizia, insomma, dei tre gol fatti fa piacere e speriamo sia la svolta, insomma, per fare più gol possibile nelle prossime partite. C'è stata una buona reazione anche una volta subito lo svantaggio, questo signor gruppo ci crede sempre. Sì, sì, la voglia, insomma, non è mai mancata anche nelle partite, diciamo, dove siamo andati più in difficoltà. Niente, c'è solo da continuare su questa strada e sperare di fare più punti possibili e da qui alla fine del girone d'andata che ci aspettano delle partite molto impegnative e degli scontri diretti per la salvezza. Adesso sarà importante anche, insomma, assorbire la fatica visto che domenica sarà una partita molto difficile. Sì, appunto, ci ripostiamo per bene e prepariamo mentalmente la gara con la Gianna e speriamo domenica di essere più carichi che mai.